Torre San Giovanni è stato uno dei primi avamposti turistici nel Salento, già a partire dagli anni 70. Ciò che caratterizza la Marina di Ugento è la Torre Cinquecentesca, con la trama a scacchiera bianca e nera che custodisce al suo interno l'immagine affrescata di San Giovanni, da cui prende proprio il nome la Marina. Un faro realizzato all'epoca di Carlo V per difendere la località dagli attacchi dei Saraceni. Oggi è la sede della Guardia Costiera e baluardo per quei naviganti che spesso corrono il rischio di imbattersi nelle terribili secche della zona. Adesso però la Torre Faro è stata acquisita a titolo non oneroso al patrimonio del Comune di Ugento. L'obiettivo di fondo da parte dell'amministrazione è quello di perseguire la massima valorizzazione del bene attraverso il recupero e il restauro, con lo scopo di adibirlo ad Ecomuseo del Porto, della terra dei due mari, per preoccuparsi di conservare e tutelare il patrimonio naturale e culturale del territorio. Le azioni di recupero prevedono anche il restauro della Torre e l'adeguamento degli impianti e gli spazi intorno per la piena accessibilità della pubblica fruizione, un nuovo sviluppo, un nuovo piazzale, una nuova opportunità per uno dei simboli, non solo, della città di Ugento.